La chiamo per il servizio della spesa, sì, sì. In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, la rete del sostegno ai più fragili prosegue la sua instancabile e silenziosa missione, stare dalla parte di chi ha più bisogno. In prima linea in questa battaglia, inasprita dall'emergenza coronavirus, c'è la Caritas Diocesana di Prato. Negli uffici di via del seminario si risponde a pieno ritmo alle richieste che arrivano attraverso il numero verde comunale, l'830-1650, per portare spese medicinali a casa di anziani, disabili e invalidi soli. Alla Caritas aspetta un ruolo di coordinamento tra le segnalazioni che arrivano al centralino e le associazioni di volontariato del territorio. Il servizio sta prendendo sempre più piede, dalle 20-21 richieste dei primi giorni, oggi sono in quattro, in contemporanea, a dover rispondere cercando di chiamare le persone. Le linee telefoniche della Caritas non smettono di squillare, sempre in questo momento, per limitare i contatti interpersonali, anche i centri di ascolto offrono una voce amica, ma a distanza e sempre per via telefonica. Procede a ritmo spedito anche il servizio degli operatori di strada, il progetto in orario serale non è stato ridotto, anzi è raddoppiato, il personale effettua due ronde tra le 21 e le 23 e 30 e cerca di rispondere in modo ancora più puntuale alle richieste di chi ha scelto di vivere in strada. È un po' difficile trovare delle disponibilità anche di spazi dove poter accogliere queste persone e farli stare dentro una struttura. Alcune di queste persone hanno fatto una scelta di quella di vivere in strada e non vogliono certamente essere accolti laddove ci sono delle realtà, però è difficile, è difficile perché chi è abituato a fare della strada la propria casa, ritrovarsi poi all'interno di una realtà dove ci sono anche delle regole da rispettare, è un po' più complicato. Chi invece sta capendo la straordinarietà del momento sono i 16 uomini ospiti di Casa Betania, la casa di accoglienza di via Pistoiese 247 che garantisce un tetto a soggetti in disagio economico, oltre a pazienti dimessi dall'ospedale che sono sprovvisti di una rete familiare. Il clima all'interno della struttura è positivo, gli utenti non possono uscire dalla casa e la Caritas si occupa anche di portare loro i pasti. Abbiamo in questo momento 16 uomini e io veramente non ci credevo che fossero così responsabili perché sono tutti uomini abituati a vivere molte ore della giornata in strada. Invece ora veramente stanno collaborando, è ovvio che per noi sta aumentando un po' anche il lavoro perché dobbiamo portarli la spesa a casa, gli operatori devono fuori del loro orario di lavoro comprargli quello che manca, ma tutto aiuta per vivere un clima sereno e diciamo meno pesante. Infine ma non meno importante è l'emporio della solidarietà. Il supermercato solidale garantisce il suo servizio alla comunità nel rispetto delle regole anticontagio. Anche la tessera viene ricaricata automaticamente da remoto attraverso un software.